Io credo che questo sia un evento importantissimo perché mette in comunicazione trasportatori, spedizionieri di tutti i paesi e quindi permette alle società di aprire la propria visione sul mondo europeo e non soltanto sul mondo nazionale. Al creare questo tipo di eventi, lo che fomenta è che gli attori che integriamo la Bolsa, i trasportisti, le agenze, stiamo in contatto non solo con una forma virtuale come il telefono o i e-mails, ma che ci vediamo in persona.